Condivido la valutazione del Presidente Putin. C'è una vera e propria guerra civile, che poi sia una guerra di posizioni, per cui ci siano degli scontri armati più o meno violenti. Questo non toglie che siamo di fronte a una guerra civile. E allora la crisi umanitaria è alle porte e già i numeri delle vittime, dei morti e degli sfollati sono numeri molto rilevanti. Io quello che posso dire è che continuerò a premere costantemente e con la massima determinazione presso gli amici e presso gli interlocutori della comunità internazionale, perché l'unica soluzione che intravedo è che la comunità internazionale possa recuperare l'unità e la determinazione di imporre agli attori libici un cessato e il fuoco e di imporre una prospettiva di soluzione politica. Poi si può ragionare a un tavolo sui dettagli di questa prospettiva politica, ma la soluzione politica è l'unica che intravedo. Quanto poi a Serrage, lei ha richiamato le sue dichiarazioni ultime, io invito ovviamente Serrage a un compito di grande responsabilità, ad assumersi le responsabilità e quindi a fare di tutto, perché crisi umanitarie, situazioni già molto difficili, non esplodano in tutta la loro ampiezza.